Oggi suono della prima campanella in alcune scuole della nostra città, ci sono delle problematiche emerse negli ultimi giorni, scuola Antonelli e anche altri istituti. Voi volete sottolineare proprio questo, che aprono le scuole e comunque ci sono dei problemi? Sì, intanto siamo davvero superfatti dalle dichiarazioni del vice sindaco che di fronte a 400 genitori della scuola Medi Antonelli, che è stata chiusa all'improvviso nel giro di qualche ora, che chiedevano uno scuolabus per portare i figli a scuola nella diaspora delle aule, che è stata decisa nel giro di qualche ora, ha risposto di no perché sono tutti plessi che secondo noi sarebbero vicini di 200 metri. In realtà sono un chilometro e mezzo, quasi due chilometri, quindi in realtà la giunta preferisce buttare in mezzo alla strada centenari di macchine che dovranno portare i bambini in altri quartieri anziché organizzare un normale servizio di scuolabus come succederebbe in ogni città ben amministrata. Poi c'è il problema di queste due scuole, del quartiere San Giuseppe, cioè della scuola San Giovanni Bosco di Via Montesiella e di Via del Circuito, scuola elementare dell'infanzia e media, per il terzo anno consecutivo questo quartiere resta senza scuole per l'inerzia di questa amministrazione. La scuola che è chiusa è senza un progetto di riqualificazione perché la giunta erroneamente la candidata in un progetto sbagliato e si è posizionata talmente in basso in gradatore che nei fatti non verrà finanziata mai questa progettualità e quindi resta chiusa senza un progetto. E la scuola Medemichetti che doveva aprire ormai da tre anni dopo dei lavori fatti partire con un finanziamento ottenuto dalla vecchia amministrazione, per l'inerzia, ancora una volta, dell'amministrazione in carica per il terzo anno consecutivo resta chiusa perché ci sono enormi ritardi in questi lavori. Un quartiere intero che ha anche molti incidenti popolari che resta per il terzo anno consecutivo senza una scuola e senza una parola da parte della giunta comunale crediamo che sia davvero uno schiaffo al diritto allo studio.